apprendimento, prego. Grazie, grazie al pubblico. In effetti la prima cosa che mi sono chiesto stamattina è con questo titolo qua, se dovessimo scegliere quale sessione seguire, chissà quanti seguiranno la mia dopo il titolo che magari può sembrare apparentemente lontano da quello che è l'ambito dell'education, degli ambienti e degli strumenti. In realtà la finalità iniziale del nostro studio che sta svolgendo ancora i primi passi è proprio quello di far comprendere l'importanza e il legame che c'è tra l'argomento della gestione del dato personale che quindi comprende anche l'argomento della privacy e del diritto alla trasparenza, del diritto all'utilizzo corretto del dato personale e l'educazione. Questo lo facciamo innanzitutto mostrandovi questa fotografia che non è altro una fotografia libera da copyright presa dal nostro laboratorio di ricerca dell'Università di Modena in Reggio Emilia. In questo laboratorio noi produciamo l'e-learning di tutta Unimore. Allora ho scelto questa immagine perché? Perché in questa immagine noi troviamo varie professionalità che possono essere sicuramente le stesse all'interno di tanti altri laboratori di ricerca universitaria. Abbiamo in questo caso l'instructional designer, abbiamo i tecnici di piattaforma e in piedi abbiamo invece il docente. Il docente è vicino all'instructional designer. Allora io non ricordo cosa si stessero dicendo ma mi viene facile immaginare che fosse una domanda sul proprio corso, sui propri utenti, una richiesta sul download di dati o magari l'invio di una mail con i dati degli utenti della valutazione più che dei log. Quindi l'interesse verso la gestione del dato personale nasce sostanzialmente dalla quotidianità del lavoro. È chiaro che l'e-learning all'interno del settore educativo è forse quello che più viene interessato da questa problematica della privacy perché la gestione dei contenuti e delle valutazioni dei dati personali di docenti, studenti, tecnici e quant'altro è sicuramente qualcosa che avviene tutti i giorni quindi avvia l'interesse. Quindi se ci chiediamo, essere già chiesto Rebecca Ferguson che è comunque una delle pioniere dell'open education e della digital education, perché un docente usa gli analytics e chiaramente non sto parlando soltanto dei docenti universitari, abbiamo un elenco in cui leggiamo, monitorare il processo di apprendimento, scoprire nuovi modelli, comprendere se quello che noi carichiamo come contenuti video, contenuti di approfondimento e anche quiz di valutazione ha efficacia o meno, aumentare la comprensione quindi degli studenti o anche semplicemente per un'attività di aiuto e assistenza a quelli che sono gli utenti. Quindi la Ferguson individua questi, ognuno di noi ovviamente potrebbe aggiungerne molti altri, noi come instructional designer invece prendendo spunto da un famoso hashtag di facebook ci siamo chiesti e allora gli ID, gli ID cioè l'instructional designer invece monitorano allo stesso tempo come un docente, come un tecnico le attività e l'interazione tra gli utenti, più che passano ai docenti magari dei dati anche personali, monitorano il comportamento e accrescono comunque la consapevolezza e aiutano l'interazione tra gli utenti, quindi anche loro hanno in mano una serie di attività e di dati che devono gestire quotidianamente inviando tramite email e quant'altro. Quindi il problema qual è? Il problema è il cambiamento all'interno del settore dell'educazione e sicuramente dell'e-learning, prima avevamo una bassa quantità di dati, adesso abbiamo un'enorme quantità da gestire di dati e che condividiamo anche un po' se permettete con scarsa consapevolezza di quello che stiamo facendo, inviare il risultato a uno studente di qualche anno fa non pone lo stesso problema di inviare ad oggi 350 valutazioni di un corso MOOC a un docente che magari vuole approfondire l'argomento in una sua ricerca, quindi questo è sicuramente cambiato, di conseguenza e per fortuna in realtà è cambiata anche la normativa. Abbiamo un passaggio dal decreto legislativo 196 del 2003 al General Data Protection Regulation europeo. Allora se ci pensiamo un attimo sono sicura che pochi di noi conoscessero precisamente la 196 del 2003 o che fosse quella la legge sul codice della privacy, invece a maggio 2018 io sono sicura che tutti noi abbiamo ricevuto almeno un messaggio in cui veniva nominato il GDPR, magari non abbiamo capito perché, abbiamo capito che stava cambiando qualcosa ma questo ci dimostra che comunque l'introduzione di questa normativa europea che va ad allineare o comunque tenta di allineare le normative di tutti i paesi della comunità ha sicuramente avuto un grande impatto anche a livello locale, anche a livello dei singoli stati. Quindi fatta questa premessa quello che stiamo tentando di fare ma davvero siamo ai primi passi e che in questa sede presentiamo come aspetto tecnico ma siamo anche un po' andati oltre sui learning analytics è allineare i principi di natura giuridica che bisogna conoscere e di cui bisogna avere consapevolezza per primi e invece requisiti organizzativi e tecnici quindi sicuramente partendo da un punto di vista che è quello del lavoro quotidiano. Accenneremo ai principi, l'introduzione più importante del GDPR e che ci interessa a tutti è il principio di accountability, il principio di accountability detto in poche parole è sostanzialmente la responsabilizzazione di tutti i soggetti che gestiscono dei dati personali per quanto riguarda quelle che sono le problematiche regate a violazioni, furto, è invio illecito. Cosa cambia rispetto al passato? Cambia che il principio di accountability prevede che il titolare o comunque responsabile del trattamento possa dimostrare in qualsiasi momento di aver gestito i dati in maniera lecita. Quindi cosa comporta? Che il problema quando magari produciamo una ricerca sui dati dei nostri studenti non possiamo più porcelo dopo, dobbiamo porcelo prima perché se un domani il garante dovesse chiederci contezza di quello che abbiamo fatto noi dobbiamo dimostrare che sin dal principio avevamo previsto dei metodi ed eravamo consapevoli di come stavamo trattando i dati dei nostri studenti e quindi che sapevamo benissimo di trattarli in modo lecito e soprattutto che loro sapessero cosa noi volevamo farne dei loro dati. Quindi questo è fondamentale perché questo ci responsabilizza tutti, docenti, tecnici, amministrativi e anche un po' studenti e si lega particolarmente a questo altro nuovo principio della privacy by design tra l'altro citato in letteratura anche negli anni scorsi proprio che prevede la progettazione degli strumenti di protezione del dato già all'inizio di quando pensiamo sia a un'analisi sull'apprendimento sia a un nuovo strumento di apprendimento. Quindi parlando questi giorni di progettazione e quant'altro dobbiamo sapere e avere consapevolezza che all'inizio dobbiamo prevedere anche degli strumenti leciti per il diritto alla privacy come una liberatoria ben fatta, un'informativa, semplicemente la condivisione. Quindi velocemente sulle figure di controllo interessate il titolare che è colui che decide le modalità e le finalità del trattamento nel nostro caso resta l'università ma i responsabili del trattamento non sono sollevati da quello che è poi la violazione che può accadere o comunque la problematica dettata alla privacy ma sono corresponsabili alla stessa maniera. I responsabili del trattamento possono essere, solitamente sono nel settore degli learning quantomeno le software house più che insomma chi gestisce comunque la parte tecnica ma le singole persone abbiamo capito che sono altrettanto importanti. Il data protection officer invece è insedito perché è una nuova figura di controllo tra l'altro obbligatoria solo per le amministrazioni pubbliche ed è sostanzialmente un consulente esperto a cui rivolgerci nel momento in cui abbiamo da programmare un'attività che prevede la raccolta dei dati e la gestione. Il problema che non è nuovo all'interno delle università italiane è che la CRU ha avviato un'indagine su 70 Atenei per cui ad oggi forse un po' meno del 40% ha nominato, degli Atenei italiani stiamo parlando, ha nominato il suo data protection officer. Quindi sostanzialmente siamo sprovvisti attualmente, non tutti, di qualcuno che ci indichi la strada, che ci faccia comprendere, che ci aiuti anche a progettare degli strumenti per poi non avere problemi in seguito. Poi controllo da cosa? Il controllo è dalle violazioni e le violazioni ad oggi con i nostri strumenti possono essere molteplici, una perdita del dato, un data breach di qualsiasi modo, un hackeraggio, ma anche semplicemente pensiamo al fatto di quando passiamo i nostri dati con una chiavetta USB con il collega docente che ha bisogno di una slide, nel momento in cui noi sulla nostra chiavetta abbiamo un dataset importante e lo copiamo per sbaglio, anche quello è un data breach. Rispetto a prima il data breach non andava dichiarato al garante, invece nel momento in cui una pubblica amministrazione adesso perde una forte quantità di dati deve denunciarlo al garante che quindi poi produce tutti gli accertamenti su come la pubblica amministrazione ha in effetti trattato e gestito i dati personali. Poi dipende dal data breach che si è avuto però l'università è sicuramente vittima o comunque potenziale vittima di tantissimi data breach anche semplicemente quando un virus c'entra nella mail e noi nella mail abbiamo dati dei nostri studenti, carte di identità, qualsiasi tipo di PIN. Quindi in questa tabella che presentiamo mancano alcune informazioni legate ai soggetti interessati e alle criticità che però potete trovare sul contributo intero. Quello che mi interessava dirvi e focalizzare l'attenzione era sui principi legati a come rispettarli, ponendo che ogni principio all'interno del GDPR ha una sua definizione che ha intrinsecamente la sua azione per poter seguire in modo lecito il principio. Quindi ne citiamo alcuni ad esempio, la limitazione delle finalità è un principio che interessa molto i docenti perché nel rispetto di essa evitare di trattare i dati personali per finalità non espressamente indicate nell'informativa è qualcosa su cui un docente può tranquillamente cadere perché, un po' l'esempio che dicevamo prima, nel momento in cui decidiamo solo in un secondo momento di produrre un'analisi o una ricerca sui dati, in questi tre giorni ne abbiamo sentite tante e dobbiamo ora capire che gli studenti andavano avvisati prima delle finalità di ricerca e che io ho preso il tuo dato, anche aggregato, perché potrebbe saltar fuori lo studente che dice no, io non ero d'accordo, tu non me l'hai chiesto e quindi violazione. Abbiamo poi minimizzazione dei dati, quindi la pertinenza rispetto alle finalità si lega sempre a questo esempio se vogliamo e infatti interessa titolare e docente, quindi in questo caso anche l'università, aggiornare i dati e verificarne la correttezza in maniera continua e l'esattezza dell'aggiornamento, quindi non possiamo più lasciare questi archivi e questi data set per anni e poi riprenderli dopo chissà quanto perché il garante se ci chiede dobbiamo dimostrare che i dati sono aggiornati ed esatti soprattutto. Limitazione della conservazione, non possiamo trattenere i dati personali dei nostri studenti o di chi per loro per sempre, dobbiamo decidere quantomeno un tempo limite, integrità e riservatezza, garantire un'adeguata protezione dei dati mediante misure tecniche e organizzative, qui entriamo un po' più sull'informatico ma sostanzialmente l'importante è dimostrare che ci abbiamo almeno pensato e che magari abbiamo installato un programma affinché i dati venissero ben protetti, un programma che si è aggiornato sempre di modo che nel momento in cui c'è una violazione che non possiamo comunque controllare, almeno possiamo dire di averci provato a proteggere i dati. Le criticità che abbiamo citato in questa tabella sono solo un piccolo esempio delle miriadi di casistiche che possono accadere, quindi questo per dirvi che è davvero importante comprendere, avere consapevolezza di questo, soprattutto in questo momento in cui la normativa è cambiata ma non da tantissimo tempo e noi abbiamo sempre più strumenti e indagini da fare ed è importante capire quali sono i passi precedenti. Quindi vado alle conclusioni, questo era uno scenario prettamente tecnico anche perché il discorso, un po' come diceva il professor Minerva ieri, è ancora agli inizi e sinceramente io spesso mi chiedo anche quanto profonda sia la trasversalità di questo studio rispetto all'educazione rispetto a tanto, però incontrando anche colleghi mi rendo conto che sempre più persone si chiedono e in effetti il problema iniziano a porselo, quindi mi sembrava importante iniziare a condividere queste informazioni e dirvi tra l'altro che siamo andati avanti e diciamo ricercando in letteratura assolutamente non italiana tra l'altro ma solo internazionale troviamo moltissimi riferimenti di questa tematica legata alla privacy e legata a un altro aspetto che apro soltanto ma ovviamente non approfondisco che è quello dell'etica, quindi etica, privacy ed educazione ormai vanno insieme ed è quello che auspichiamo di poter approfondire anche per dare un contributo sia ai colleghi che quanto più indagare gli scenari di ricerca che possono emergere da questo nuovo mondo quasi. Grazie. Bene, grazie Claudia. È vero assolutamente che la protezione del dato personale non è credo come è stato detto prima opportunamente adeguatamente tenuto in considerazione dalle università, per chi ha una conoscenza adeguata ad esempio del mondo universitario anglosassone sono certamente molto più avanti da questo punto di vista. Condivido poi pienamente quanto lei ha detto, cioè che è fondamentale che nella fase di programmazione, di progettazione già si pensi appunto alla protezione del dato personale. Ci sono delle domande a questo riguardo, degli interventi? Nessun intervento, quindi è stata molto chiara. Bene, grazie. Grazie. Grazie.